arrivare quanto prima scoprire il tumore nelle fasi più iniziali questo ci permette terapie più conservative migliori qualità di vita terapie meno aggressive e ha determinato un netto abbassamento della mortalità per la prevenzione oggi la donna ha varie possibilità variarmi definiamoli che devono essere modulate a secondo di quella che è l'età la cosa importante è per una donna dopo i 40 anni iniziare con l'esame mammografico un'esame mammografico un'esame mammografico un'esame mammografico un'esame mammografico un'esame mammografico Grazie.